La creatività dei tempi, che non vanno forzati, nonostante ci siano dei tempi da rispettare. E mi riallaccio al tuo discorso, il teatro insegna questo, il teatro è questo, il teatro è un altro tempo. Perché si dice che quando le persone fanno teatro stanno meglio, secondo me, anche tenendo corsi per persone non professioniste, io ho capito che è proprio l'altro tempo che crea il teatro. Il silenzio che può creare il teatro, le pause che ti insegna, in cui ti insegna a stare il teatro. In un mondo che è pieno di frastuono, di tempo che fa, di tante cose che accadono, di tanti stimoli, che ti insegna a questo. Questo sarà il vostro passaporto, partirete domani stesso. Grazie. Grazie.